Mi chiamo Leila e sono la seconda nata di una famiglia poverissima. Se sono viva, lo devo a mia madre, che non ha avuto il coraggio di uccidermi, come le aveva imposto la famiglia. Anch'io, come secondogenita senza dote, sarei dovuta sparire dalle statistiche democratiche. Perché qui, se una femmina non ha niente, non conta niente, non serve a niente, non è niente. Non potendo contrarre matrimonio alcuno, unico futuro per gli esseri umani di sesso sbagliato di cui io faccio parte. Qui, il peccato di essere nata donna e per di più nella miseria, si paga subito, sin dall'inizio. E chi riesce a cavarsela da un fante e poi da bambina ed adolescente, l'erada adulta, è la sofferenza più atroce. C'è stato un momento che ha maledetto mia madre per non avermi ucciso da neonato. Almeno allora sarei passata dalla nascita alla morte, senza subire la condizione umana della consapevolezza e del dolore. Era violento.